si salve il carrefour allora mi serviva un pandoro pandoro eh lo so si si sono un po in ritardo va bene grazie grazie e buonasera pronto? è la lidl se avete un pandoro avanzato si da natale niente solo colombia no roba tedesca non ne vuole va bene grazie calzare bene ragazzi ciao a tutti bentornati in questo nuovo video non ho trovato il pandoro ieri ho girato tutti i supermercati non ho trovato nulla ragazzi non c'era neanche uno di quei mini pandori non so avanzati niente ragazzi vi giuro io una cosa ve la devo dire grazie 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 per i 20.000 iscritti del canale veramente una grande soddisfazione ragazzi e riprendo il mio bitcoin d'ora anche se bitcoin sta dando veramente un po' di casino in questo periodo però io volevo veramente ringraziarvi ragazzi so che magari può apparire scontato per molti ma non è assolutamente così mi sono emozionato l'altro giorno domenica mi sono emozionato nel vedere raggiungere questa quota ed è una cosa vera ragazzi assolutamente perché l'abbiamo fatto insieme abbiamo raggiunto insieme questo obiettivo quindi è un obiettivo nostro della community del canale grazie 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 a tutti voi 20.000 iscritti festeggio così i tre anni di trading on i tre anni di mauro caimi su youtube grazie ragazzi bene andiamo al video di oggi tra importante perché bitcoin ha davanti a sé dei giorni che sono estremamente particolari ed importanti oserei dire anche un po' magici non siamo ad agosto non siamo nella notte di san lorenzo però può essere un mese da stella cadente per quanto riguarda bitcoin purtroppo mi duele dire questa cosa mancano solo pochi giorni alla fine del mese di gennaio e bitcoin ieri ha fallito un test importantissimo cioè quello di riportarsi su una quota di prezzo intorno ai 36 37 mila dollari che era un livello stra importante in chiusura del mese di gennaio perché bitcoin sta andando a disegnare una candela mensile un pattern di prezzo di inversione di medio lungo periodo importantissimo oggi andiamo a vedere il pattern che sta disegnando lo analizziamo cerchiamo di capire quali rischi e quali pericoli si possono annidare all'interno di questa configurazione per le prossime settimane intanto vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e chiaramente tirar su i pollici che proprio sono diventati veramente un numero di mi piace spropositato e io il mi piace ragazzi li metto anche a tutti i commenti quando li fate e quindi vi ringrazio di cuore quindi su quei pollici mi date sempre una mano andiamo però a vedere questo pattern allora davanti avete candele mensili di bitcoin e sulla piattaforma prime xtb una piattaforma che io utilizzo per fare speculazione ad alto livello di leva quindi su bitcoin ragazzi ho parlato tanto della piattaforma prime perché vi consente di poter operare utilizzando bitcoin come valuta questa è un grande pro di questo tipo di piattaforma ma vi consente anche di avere degli aggeggi da trader estremamente più veloci e innovativi come per esempio l'immissione di stop e take direttamente all'interno di un ordine una serie di ordini avanzati estremamente e importanti ragazzi allora come sempre io vi lascio il link in descrizione di prime per chi di voi volesse provare questa piattaforma trovate anche sul mio canale una serie di video dove parlo e faccio anche un tutorial dove vi spiego tutti i livelli di rischio che si hanno nell'utilizzare una piattaforma senza kyc e vi lascio anche un super bonus in descrizione con lo sconto fi per questa piattaforma questo pattern è un pattern che è molto particolare ed è definito shooting star allora intanto mi preme spiegare a tutti cos'è un pattern pattern è una configurazione che troviamo sui grafici che si ripete spesso questo è l'idea di pattern ma in questo caso nel caso specifico su questo pattern che stiamo vedendo oggi ragazzi c'è un'anomalia perché il pattern è formato di solito da due candele in questo caso questo è un pattern monocandela però è veramente un pattern molto molto importante che solitamente si configura alla fine di un trend di natura rialzista andiamo a vedere questo pattern sul grafico è configurato così ragazzi un corpo della candela molto piccolo non è importante che sia verde o rosso quindi in questo caso è ancora rialzista il mese di gennaio perché ha un corpo verde però la shadow pronunciata che trovate qui quindi questa shadow importante che va dai 42.000 in sostanza al prezzo di chiusura che sta in questo momento vicino a 32.000 di bitcoin ma non sappiamo appunto quando chiuderà e sono proprio i giorni che mancano alla fine del mese di gennaio che sono quelli più importanti questa shadow così pronunciata va a definire il pattern della shooting star ci sono anche altri fattori che dovremmo andare a considerare e ve lo faccio vedere in questo caso per esempio sul grafico su binance per esempio che sono anche i volumi in questo caso utilizziamo quelli di binance perché sono magari i volumi maggiori degli exchange delle crypto e tecnicamente una shooting stars si va a configurare quando i volumi sono tendenzialmente molto bassi in questo caso il pattern non è confermato dai volumi che i volumi risultano essere in pari con gli altri mesi quindi in sostanza per fortuna almeno da questo punto di vista i volumi non confermano andiamo a capire che cosa può provocare questo pattern e poi cerchiamo di capire se bitcoin lo confermerà o no perché mancano proprio questi giorni finali che sono 5 giorni alla fine del mese al di là della questione tecnica di come viene descritto di come è formato il pattern quello che ci interessa in pratica è cosa significa per chi investe cosa significa questo pattern ve lo faccio rivedere sul grafico di prime questa candela ci dà una spiegazione di quello che è avvenuto nel mese di gennaio quello che è stato l'atteggiamento degli investitori per quanto riguarda bitcoin eravamo partiti a razzo nel mese di gennaio facendo appunto questa fase rialzista molto pronunciata come sempre accade quando il mercato va a razzo all'inizio del mese poi diventa un po' complicato gestire tutta quella volatilità in effetti bitcoin non è riuscito a mantenere i prezzi vicino ai massimi come aveva fatto per esempio a novembre e a ottobre in queste due candele ed è ripiombato verso il basso in pratica ragazzi gli investitori che erano arrivati nella prima parte del mese evidentemente erano dei retail oppure dei piccoli investitori che avevano fatto salire il prezzo per un eccesso di domanda eccesso di domanda che è stato visto magari dai possessori di bitcoin nel mese di gennaio come un'opportunità di vendita e non come una naturale evoluzione dei prezzi del mercato tant'è vero che moltissimi hanno iniziato a vendere quando moltissimi hanno iniziato a vendere assistiamo a questa diciamo rientro dei prezzi questo è quello che è accaduto un movimento fatto in questo modo che configura anche una logica da parte degli investitori presenti nel mercato i prezzi di 42.000 per bitcoin sono stati ritenuti estremamente alti rispetto all'attuale momento questo ci dà un'informazione importante ragazzi sulla pericolosità del mese di gennaio e soprattutto di quello che potrà accadere a febbraio andiamo a capire cosa ci potrebbe aspettare a febbraio se questo pattern venisse confermato entro 5 giorni dal mercato e soprattutto un livello che vi dico in questo video che dovete tenere con gli occhi bene aperti perché ragazzi sarebbe estremamente grave se bitcoin rompesse quel livello la shooting star se così continua bitcoin nei prossimi giorni verrà totalmente confermata se addirittura bitcoin continua a scendere e chiude il mese di gennaio vicino all'open peggiora ulteriormente perché andrà ad avere un corpo strettissimo indicando in sostanza una forte debolezza del mercato a quel punto fatta questa chiusura bitcoin dovrà decidere la strada da prendere nel mese di febbraio e risulterà importantissimo il livello di minimo del mese di gennaio cioè il minimo appena fatto ragazzi da bitcoin che sui prezzi di binance è pari a 28 130 quindi se il pattern shooting star venisse confermato entro il fine mese di gennaio vi dico anche che non è detto che bitcoin lo confermi adesso vi faccio vedere cosa deve fare entro questi 5 giorni per non confermare questo pattern ma se lo conferma a febbraio deve stare sopra i 28 130 di binance i 28 mila dollari se brecca i 28 mila dollari indica la conferma del pattern in questione e la stella cadente diventerà effettivamente cadente poi ovviamente ci sono le eccezioni ci sono i falsi break però ragazzi quanto rischio ci andremo a mettere in pancia se va a breccare i 28 probabilmente assisteremo a un deflusso a una serie di stop loss presi e insomma non sarà bello assistere una cosa del genere io sono ancora fiducioso che bitcoin riesca in ogni caso a mantenersi sui mesi di febbraio in trading range sapevamo la debolezza di febbraio e di marzo lo sapevamo ragazzi ma non fa mai bene vederlo veramente non siamo mai contenti di vederlo ho già preso le mie precauzioni spostando una parte del mio holding che adesso è pari al 50% sui miei trading system in meno da appunto gestire questa fase di estremo rischio ed uscire dal mercato con i sistemi di trading che sono più veloci ma questi cinque giorni sono chiave per bitcoin sono chiave ragazzi perché può anche decidere di fare una cosa molto importante può anche decidere appunto di fare questo cioè ritornare a salire e assumere un prezzo che sia al di sopra dei 35 36 al di sopra di questa fascia e configurare una candela mensile così in questo caso se questi cinque giorni saranno in questo modo bitcoin non confermerà la shooting star e se non la conferma in close del mese di gennaio è assolutamente un'ottima notizia ragazzi quindi la cosa che mi premeva dirvi in questo momento è che questi giorni sono stra importanti ieri bitcoin ci aveva provato ma non è riuscito a stare su questo è stato una cosa estremamente negativa può provarci ancora di solito giovedì è un giorno molto volatile per i mercati delle cripto basta fare un bel up insomma come bitcoin ci ha abituato e andare in chiusura del mese di gennaio vicino i 35 37 in quella zona lì tra 35 e 37 mira basterebbe quello anche con un mese di febbraio poi magari anche negativo ragazzi non è importante ma basterebbe quello a negare questo pattern che non è un pattern bello perché se poi a febbraio andiamo sotto i minimi di 28 diventa veramente un problema serio questa è una shooting star con un corpo anche leggermente più pronunciato di quella che stiamo facendo in questo momento ha dato poi il via ad una fase ribassista che è durata un anno quindi attenzione perché dovessimo avere la stessa configurazione nel mese di gennaio se febbraio non ribalta poi le carte diventa estremamente complicato nel 2021 assistere a nuovi massimi vediamo quello che succederà entro la fine del mese voi cosa ne pensate di questa situazione che un po' ragazzi mi ha deluso non vi nascondo nella giornata di ieri perché ieri mi aspettavo che il mercato proprio facesse l'ultimo sdrancio finale alla fine del mese invece sono rimasto deluso ancora adesso ci credo ma vedremo ragazzi il mercato è veramente debole fatemi sapere cosa ne pensate come sempre noi ci riaggiorniamo nel prossimo video ciao a tutti